La forza è sempre con te per una nuova sfida contro una vera velocità della luce. Nulle dei più antichi sentimenti tornano gli eroi di guerra stellare. Luke Skywalker, Ian Solo, Chume, C-1, Re Bion, con loro, a corvo di Lenin Falcum, la principessa Leila e l'immortale Obi-Wan Kenobi. Contro di loro, l'implacabile Lord Fennar, il signore delle tendere. In appesa del ritorno dello genio, vivi il secondo capitolo dell'unicea più fantastica del cielo. L'impero colpisce ancora. La forza continua. Mercoledì, 20 e 30, sul mega schermo di Canale 5. Facciamo una sorpresa alla mamma, eh ragazzi? Sì, sì, Nanno, ma ci sei mai stato nella Valle degli Orti? Certo, è lì che vengono scelti quei piselli teneri e dolci che vi piacciono tanto. Mio, che profumino! Piselli fini e finissimi della Valle degli Orti. Acqua Fabia, almeno una bottiglia al giorno, aiuta l'organismo a rimanere limpido. Acqua Fabia. Limpidi e leggeri. Ancora una volta, Seat è andata oltre gli schemi. Creando la nuova Seat Ibiza Cinque Porte. L'unica Cinque Porte con design italiano. Tecnica tedesca e molto più spazio dentro di quanto appaia fuori. E oggi Seat Ibiza Cinque Porte è anche Junior, la più giovane dell'Ibiza. A sole lire 8 milioni 990 mila. Oggi mi sposo. Eppure la vera sposa sembra mia madre. Guardatela. Sembra ancora così giovane. Dice di avere un segreto che l'aiuta a non dimostrare la sua vera età. Oilo Volaz attenua le piccole rughe, i segni del tempo. Ogni sua preziosa goccia rende la pelle morbida e liscia, senza lasciare traccia di grasso. Vivi anche tu il segreto di un fluido di bellezza così speciale. Oilo Volaz. Non vuoi anche tu sembrare più giovane. Marci. Cuore del santo. Oggi questo bellissimo bicchiere Liberty è il regalo per te con ogni confezione da 20 o 30 da Di Maggi.